Uè bella a tutti ragazzi, prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator Xyuderone, grazie mille per il vostro supporto, attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su Instagram uno screen, quello che volete, io vi reposterò ma adesso video vieni qua a ressarmi che vado a ammazzare quella merda non devi, oh Efesto, Efesto Efesto ressemi perchè la vado a prendere quella merda bravo, bravo, bravo non ho veramente parole Efesto, sono completamente costernato da ciò che è appena accaduto Efesto perfettissimo, cioè poi non si provi ad uccidere, piuttosto muore c'è non lo devo uccidere no uno si, uno si, faccio vedere quant'i siamo uno si, no non uccida non uccida non uccida non uccidono ok, uccida uccida, uccida UCCIDO! ecco è che, uccida UCCIDO! E' che ha trovato una città E' piorco diaz! uccida uccida, o'uccida! ora! è va beh dovevo capire, figa andiamo a vedere chi ritengo? andiamo ha riso lui ha riso lui cazzo oh puttana eva troia c**o ma che cazzo vuoi? no aspetta si è di qua che cazzo vuoi? andiamo? scusami polpettina si hai per caso qualcosa da dirmi che io non sapevo? una cosina scusami e perchè non me la stai dicendo? per la paura scu... paura di che cosa? per te fa vuoi che la paura ma non ti preoccupare vieni qua con me dimmela nell'orecchio si però nell'orecchio 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 oh l'altro l'altro sono piglie cf cf che è morto lei? che è stato... mi hanno cecchinato? l'orecchio lo stai buttato sotto? allora allora un attimo non posso nemmeno restarla guardi dove sta rest no dai f... lo sapevamo tutti dai lo sapevamo tutti dai lo sapevamo tutti lo sapevamo tutti dai cazzooo dai ma perche' ogni volta perchè' ci muore vero? no non credo no non credo ragazzi ok guardiamolo no non credo però io ho messo dentro una scala ne vengono circa 70 oh cazzo stavo pre... stavo pre... stavo pre... f mi ha detto che prima che ho ieri o quando hai sbombardato il mouse PAMPA cos'è successo? cos'è successo cos'è successo? siiii che mi sono incazzato chiusciuder mi dice si l'ho distrutto io gli entro nel box e mi sono girato poi mi rigiro l'ho uccito ma nello stesso momento mi rientro l'altro ha capito? lui mi l'ha raccontato un po' in modo diverso eh no 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 lui mi ha detto ah guarda sono entrato in un muro in modo sbagliato e si è incazzato ha spaccato il mouse non è andata proprio così era vero era... era circa più o meno nel senso non sono per nulla d'accordo ora si prende danno ora si prende danno forza ma a me non sembrava così alto ma a me non sembrava così alto e andiamo ragazzi let's go abbiamo giocato molto pulita si vabbè ma scusi ma chi è questa? questo è stato fantasy pura figlia per favore siamo in 3000 non può soffiarsi il naso nel microfono ci hai sentito ci spaccano tutto porco diaz ma dove cazzo salgo? che ogni volta che salgo mi prendono ma è tua madre quella puttana ciao vediamo se rimane vivo ci sono forti ce la fai Fanti? va che muore va che muore guarda che muore veramente guarda che muore veramente no che vittà io non voglio neanche commentare te l'ho detto che crepava figa ti provi tos trofitos headshot e ti provi tos trofitos headshot e ti provi to trofitos headshot headshot ti provi a sperare con il cecchino ma che c'è riprende lecce ad ha provato a prendere il popolo si è riuscita a fare meno di 22 anni non sia capace andiamo non c'è bisogno sempre di ridere su queste piccolette per cortesia per cortesia andiamo perché si salta così tanto quando vince un'arena io non posso non posso soltanto i veramente i familiari e quindi ma chi cazzo è sparato dai mi scrivete ma che cavolo ne so c'ha il rinculo figa più veloce exxuder è giusto che muoio 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 Grazie proprio a Sao. Grazie.